C'era una volta un bambino fortunato e felice. Aveva tanti giocattoli nella sua stanza che forse neppure lui chiudendo gli occhi sarebbe riuscito ad elencarli tutti. C'erano birilli, trenini con lunghissime rotaie, piccole automobili a molla, scatole di costruzioni e tutti questi giochi erano così colorati e lucenti che facevano allegria soltanto a guardarli. Ad ogni festa qualche nuovo balocco si aggiungeva agli altri. Papà cosa c'è in quel pacco che hai in mano? C'è un regalo per il tuo compleanno. Oh fammi vedere papà lasciami togliere la carta. Sì sì ma piano piano ecco così con calma. Oh sono dei soldatini. Sicuro sono dei soldatini di piombo ti piacciono? Sì sono bellissimi e hanno tutti in spalla il loro fucile. Guarda non sembra che siano orgogliosi delle loro piccole divise rosse e turchine. È vero anche questo soldatino mutilato all'aria tanto fiera. In mezzo agli altri soldatini distesi ordinatamente sul fondo della scatola ce n'era uno a cui mancava una gamba. Vediamo se sta in piedi anche lui. Sicuro eccolo qua sulla tavola col suo fucile a tracolla. Ora tocca a te sistemare tutto l'esercito. Sì sì ho già in mente come disporre i soldatini. Ecco la base che devono difendere è quel castello. Fra i molti balocchi che stavano posati sulla tavola il castello si notava subito. Era fatto di carta pesta ma le due torri, il ponte levatoio, le bandierine colorate, le piccole finestre trasparenti davano proprio l'idea che fosse vero. I soldatini migliori staranno qui all'attacco e un altro gruppo resterà di guardia. Ti pare papà? Sì è giusto. Qualcuno lo manderò in ispezione e il soldatino senza una gamba? Beh quello è meglio lasciarlo nelle retrovie. Qua per esempio vicino al portone. Il portone del castello era spalancato e proprio sulla soglia di esso stava una deliziosa damina vestita di velo leggero con un sottile nastrino azzurro sulle spalle e una stellina lucente sul petto. La figuretta chiudeva le braccia in tondo sopra il capo perché era una ballerina e infatti stava ritta su un piedino solo e sollevava il secondo così in alto che il soldatino a prima vista credette che anche lei avesse una gamba sola. Quella potrebbe forse diventare la mia sposa. Beh veramente io sono un tipo alla buona mentre lei sembra una gran signora ma ora che siamo così vicini chissà che non si possa fare amicizia. La ballerina sorrise al nuovo compagno ma rimase fermissima sempre in equilibrio su una gamba sola. Il soldatino la guardava la guardava con ammirazione si sentiva preso da un tenero affetto per lei ma non osava dir niente. Mentre se ne stava come in estasi da una scatola sorpresa salto fuori un diavolo nero. Cucu! Ti ho spaventato vero? Ne sono contento è il mio mestiere di spaventare la gente. Ehi ehi ma mi stai a sentire? Ah c'è qualcun altro che ti interessa ma tu non sei fatto per lei e poi non rimarrai qui molto. In quel mentre il bambino prese il soldatino di piombo e per l'appunto lo posò altrove sul davanzale della finestra. Che peccato stavo così bene là a difesa del castello. La tua ballerina l'hai già abbandonata l'avevo detto io che non poteva durare molto. Il soldatino avrebbe voluto ribattere ma non fece in tempo perché un colpo di vento lo sollevò all'improvviso e lo fece volare a capofitto giù dalla finestra. Papà il soldatino con una gamba sola è caduto sulla strada. Hai visto bene dove è andato a finire? No bisogna scendere a cercarlo. Andiamo subito vieni. I due scesero sulla via e per un po' cercarono il soldatino ma senza vederlo. E sì che per poco non lo calpestavano. Papà sta cominciando a piovere. Già e senza ombrello non possiamo rimanere qui. E allora il soldatino? Ritorneremo a prenderlo più tardi. La pioggia invece di cessare si trasformò intanto in un solenne acquazzone e i goccioloni che venivano giù fitti fitti bagnarono completamente la divisa rossa e turchina del soldatino. Quando lampi e tuoni furono cessati passarono di lì due monelli. Uno di loro si fermò. Guarda un soldatino di piombo. Mi viene un'idea. Mettiamolo in una barchetta di carta così potrà navigare nel rigagnolo. L'acquazzone aveva gonfiato il rigagnolo e il soldatino si trovò sopra una leggera barchetta di carta in balia di una corrente rapida e vorticosa. Non aveva mai viaggiato a quel modo ma non si intimorì. Stava dritto dritto nella barca col suo fucile in spalla e lo sguardo fisso davanti a sé. D'un tratto il rigagnolo finì in un lungo canale sotterraneo. Che buio qua dentro e la volta è tutta gocciolante per l'umidità. Non mi sono mai sentito così solo. Se almeno avessi la compagnia della mia ballerina navigherei più contento. In quella un grosso topo che correva velocissimo sul bordo del canale andò verso di lui minaccioso. Creanzato! Ma chi ti ha dato il permesso di scendere con la tua barca nel mio sotterraneo, eh? Sono soltanto di passaggio ed è questa corrente che mi ha trasportato fin qui. Allora cerca di andartene al più presto se non vuoi passare qualche brutto guaio. Vedo un chiarore laggiù in fondo e penso che potrò finalmente tornare alla luce del sole. L'acqua, gorgogliando, portò di fatti la barchetta all'aperto. Ma qui, all'improvviso, ecco una grande cascata. Oh, che salto! E povera barchetta di carta, com'è ridotta, tutta inzuppata d'acqua. Misericordia! Ma qui si fa naufragio! Io sto proprio affogando! Oh, mi è sventurato che non vedrò più la mia dolce ballerina. La barchetta era adesso tutta piena d'acqua e per di più si sfasciava. Il soldatino di piombo era ormai immerso fino al collo e stava per affondare del tutto. Ma un grosso pesce lo raggiunse velocissimo e se lo inghiottì in un sol boccone. Eccomi tornato di nuovo nell'oscurità più profonda. E per di più devo stare disteso e stretto stretto. Almeno quest'animale rimanesse un poco tranquillo. No signori, non fa che guizzare a destra e a sinistra. Mi domando quando si fermerà. Alla fine però il pesce smise di guizzare per il semplice motivo che un pescatore lo catturò con la rete e successivamente lo vendette al mercato. Figuratevi la sorpresa della cuoca che ha perso il ventre del pesce. Ma qui c'è un soldatino. Un soldatino di piombo. Oh che strana combinazione. Ma c'era una combinazione ancora più incredibile. Il soldatino era ritornato nella stessa casa da cui era partito. Papà vieni a vedere. Ho ritrovato il mio soldatino, quello con una gamba sola. Sicuro? È proprio lui. Ma com'è ridotto male. Chissà che viaggio ha fatto. Per qualche giorno il soldatino ritornò sulla tavola. Il diavolo nero, quello della scatola sorpresa, riprese a beffarsi di lui. Sei ancora più brutto di prima. Credi a me, questo non è il tuo posto. Ma il soldatino non gli badava. Era felice di essere ancora accanto alla sua ballerina che gli sorrideva. E lui sognava di difendere il castello, di impedire al nemico di avvicinarsi a lei. Sognava di marciare come tutti gli altri soldatini a testa alta sotto gli occhi ammirati della sua ballerina. E alla sera, nell'ora del silenzio, era felice di addormentarsi così, a due passi da lei. Finché, un brutto giorno, qualcuno prese il soldatino in mano e, vedendo che era ridotto da buttar via, lo gettò nel caminetto in mezzo alle fiamme. Addio, ballerina, mia dolce piccola ballerina. Quando stavo per annegare nella cascata, non volevo morire perché dovevo ritornare da te. Ora invece sono contento perché ti ho rivisto e perché tu mi sorridi. Sai, io ti ho sempre voluto bene. Allora accadde una cosa sorprendente. La ballerina si affidò a una folata di vento e andò a raggiungere il suo soldatino tra le fiamme del caminetto. un grande calore avvolse tutti e due e li consumò. Ma essi non seppero mai se fosse stato il fuoco o il loro grande amore.